ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare la sfida fai goal sul campo da calcio a parco pacifico il goal va fatto appunto solo a parco pacifico che si trova qui cioè è inconfondibile lo vedete già dalla mappa lo stadio praticamente tutto quello che dovete fare è raggiungere il campetto e usare il pallone che trovate per fare goal cioè dovete spingere il pallone nella rete niente di così complesso eccolo qui la porta è indifferente quindi dovete calciare praticamente il pallone fino a quando non fate goal ora io sono una schiappa con il calcio goal e la sfida è completata